ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento dell'ambassador pack di project l un gioco da tavolo basato su tessere con aree incassate da riempire con pezzi simili a quelli del tetris è una espansione molto piccola non ha icone o dati particolari stampati sull'esterno della scatola vi do una misurata anche se probabilmente non servirà poi tenere la scatola una volta aperta e presi i pezzi 10 centimetri e mezzo per 4 e mezzo per 7 centimetri e mezzo dovrebbero esserci alcuni pezzi e alcune e alcune tessere da aggiungere al gioco base il gioco base ricordiamo molto semplice si prendono pezzi si promuovono si usano per riempire appunto le aree incassate presenti in alcune tessere che una volta completate restituiscono i pezzi utilizzati e in più danno dei pezzi in più come premio ci sono due tipi di tessere c'è un'anima interna per dare più struttura alla scatolina eccola qua ci sono delle tessere bianche e tessere nere le tessere bianche sono in numero maggiore e hanno punti minori sono più semplici le tessere nere fanno da timer hanno aree più grandi e danno più punti in più cosa fa questa questa espansione e questi sono i punti che si guadagnano completando la tessera questa è un'azione che viene data in come premio mentre nelle tessere normali qui trovereste il disegnetto di un pezzo del tetris qui avete la possibilità di usare questa azione che viene chiamata ambassador e dal nome dal nome all'espansione in pratica è un'azione maestro e lei me lo ricorda l'azione maestro cosa fa se avete attive tre tessere e avete una scorta di pezzi potete usare un pezzo su ogni tessere invece di fare un'azione con un pezzo qui un pezzo qui in potete usare tre azioni l'azione maestro è come il maestro di scacchi gira tra i tavoli con i giocatori facendo n partite contemporaneamente contro un avversario e muove un pezzo qua muove un pezzo la muove un pezzo di qua qui è uguale prendete un pezzo lo mettete qua un pezzo lo mettete qua un pezzo lo mettete qua questa è la normale azione maestro cosa fa in più l'ambasciatore non ha il vincolo di essere fatto una volta a turno nel turno avete tre azioni e potete spenderle tra prendere pezzi promuoverli prendere tessere e piazzare i pezzi nelle tessere e una azione maestro a turno l'azione ambasciatore non ha questo vincolo se mettete da parte tutte e tre le tessere per per usarle contemporaneamente nello stesso turno questo è l'ecito una volta fatto rigirata la tessera per sapere che non avete più a disposizione quell'azione ambasciatore ma i punti rimangono sempre valida a fine partita le rigirerete e andrete di nuovo a contare questi punti qua a sommarli e quelli che avete fatto con le altre tessere in più viene data una moneta che viene usata come segnalino primo giocatore metallica e riprende la L del logo e il riempimento dello spazio fatto con i pezzi simili tetris e l'immagine sulle stesse la stessa immagine su entrambe le facce molto molto piacevole al tatto ruvidina dove c'è la questa questa composizione a tetris comunque si leggera non è pesante piacevole falla fa una bella figura insomma per quanto non abbia granché granché utilizzo all'interno del del gioco bene questo è quanto non vi resta che mettere un bel like su questo lato o premere iscriviti su quest'altro per essere aggiornati ad ogni nostra nuova uscita a a a a a a